La fragilità idrogeologica del nostro territorio diventa sempre più spesso oggetto delle segnalazioni dei telespettatori a Rossini TV, in particolare quella delle strade collinari a rischio frane. È il caso di strada dei colli percorso che dalla zona muraglia L'E di Mar di Pesaro si collega alla frazione di Trebbiantico. Come ci segnala una nostra telespettatrice, basta percorrere la strada per notare come gli angoli della carreggiata portino ancora i segni dell'ondata alluvionale di maggio con i residui di smottamenti visibili a bordo strada. Ma soprattutto si notano curve in cui incombe la pericolosità di rischio frane alla luce delle sempre più frequenti violente bombe d'acqua. Pareti terrose friabili con alberi in stato di precarietà a pochi metri da una sede stradale di transito frequente. C'è chi fra i residenti ha segnalato la situazione alla provincia, ma quanto pare un'eventuale messa in sicurezza è costretta a mettersi in fila alla lunga lista di strade provinciali ferite dal nubifragio di maggio e che hanno messo in conto all'amministrazione provinciale quasi 80 strade danneggiate per le quali il presidente Paolini ha stimato 25 milioni di euro di danni. Intanto i residenti auspicano perlomeno un'attenta valutazione dello stato di rischio.